Dopo il mini rugby, come non parlare anche del torneo scolastico Lombardo, dove eravate anche diversi giocatori del vaticino, ovviamente nella scuola di Rezzato, una bella iniziativa anche di radunare la scuola, la scuola legata al rugby e al rugby Lombardo. Sì, sicuramente perché noi nel nostro bacino di utenza andiamo a pescare nei paesi limitrofi e abbiamo dei educatori di attività motore che vanno a fare quasi tutti i mesi 60 ore di rugby nelle scuole, il nostro comprensorio è Rezzato, Molinetto, Mazzano, sicuramente il nostro sport sta facendo un grande successo anche a livello scolastico, anche perché abbiamo delle persone molto competenti a questo livello e i professori di queste scuole ci sono in giro e ci stanno chiedendo sempre più tante ore per il nostro sport. Infatti adesso è il momento anche di seguire quello che abbiamo vissuto quel mercoledì lì, là, al Peroni Stadium. Ciao a tutti, io sono Luca Poli e ho seguito la scuola di Castelmella, queste qua sono la categoria femminile A e sono le ragazze della scuola media di Castelmella. Adesso ve le presento una a una. Cara, Sofia, Sara, Alessandra, Chiara, Nicole, Nadia, Federica, Giulia, Elisa. È stata una mattinata speciale, diversa, in cui abbiamo giocato uno sport che non spesso viene giocato, soprattutto dalla femminile, in cui abbiamo potuto sentirci davvero una squadra e lavorare insieme, cosa che non capita sempre. Viva il rugby! Brava, sembrate tutte stranieri anche voi. Risultato per quanto sia questo? Cinque parti. Tra? Cremona e Milano. Ok, perfetto, grazie. Tutto a posto? Alla grande. Bravi, bravi, bravi. Adesso è il tuo momento, va bene? Ti voglio motivato. Ok, raccontami chi sei, chi sei, chi sei? Sono Francesco Cappellazzi e insieme al professor Bettani, Alberto, siamo gli insegnanti del corso sportivo del Pacioli di Crema, istituto tecnico, e siamo felici di aver accompagnato queste bravissime ragazze alle finali regionali. Avete pareggiato l'ultima partita? Abbiamo pareggiato 1-1. Catenaccio? Catenaccio? No, no, palla lunga e pedalare. Sono le più forti. Martina, Federica, Anna, Federica, Promis, Chiara, Giulia, Dalila, Nicole, Alice, Giulia, Vanessa, Martina, Giorgio. Chiamo Federica in quanto capitano della squadra. Allora, quest'anno rispetto all'anno scorso è andata molto meglio, nel senso che le abbiamo vinte tutte tranne l'ultima che abbiamo pareggiato. Siamo state le più cariche di tutte perché siamo molto unite. E non so, il rosso poi ci carica ancora di più. Una dedica? Una dedica, una dedica, fatemi pensare. E oddio. Al tuo ragazzo no? Al mio ragazzo no, decisamente no, non se le merita, non se le merita. E diciamo che sono contenta di quello che hanno fatto. Il gruppo allora, il gruppo? Dedichiamo al gruppo? A questo gruppo lo dedichiamo o no? Sì, infatti. Allora voglio il vostro saluto, dai, un saluto generico totale, dai. Ragazze, il nostro saluto è un urlo, quindi urlate! Uno, due, tre! E questo è tutto, direi. Siete delle bestie. Siamo delle bestie, certo! Siamo delle bestie, certo! Ciao Norberto, noi ci conosciamo già, ti ringrazio per la partecipazione. Sono a presentarti la mia squadra di Legnano, che si è comportata benissimo, siamo usciti imbattuti da questo torneo. Ti presento la nostra... Ciao, sono Nicole. Ciao, sono Maura. Io sono Nicoletta. Nicoletta. Ciao, io sono Chiara. Ciao, sono Sharon. Elena, Isabella, Federica, Dalila, Mariam, Fleride Bortolaso, l'insegnante di Scienze Motorie. Abbiamo giocato alle partite, abbiamo vinto le prime tre, l'ultima l'abbiamo pareggiata. Non voglio statistica, voglio sensazioni. Siamo state molto brave, ci siamo divertite tanto, è stato bello passare una giornata qui e adesso abbiamo dato il massimo, adesso festeggiamo un po'. Si è giocato realmente. Quindi siete venute per il terzo tempo, dai, di la verità. Sì, siamo venute. Ok, vi ringrazio per la partecipazione, un saluto di ritto come al solito, dai, un saluto. Di segnati! A conclusione di questa giornata, o quasi vicino alla conclusione, esprimo la massima soddisfazione per quanto avvenuto. Calvisano ha ospitato, quest'oggi, i giochi sportivi studenteschi, la fase regionale e la partecipazione è stata totale. Queste scuole andranno poi a Jesolo per le fasi nazionali. Sono venute da tutta la Lombardia, da tutte le province e devo dire che ho visto anche squadre che hanno giocato, scuole che hanno giocato un buon rugby. Questo è propedeutico per continuare la crescita, la propaganda del movimento lombardo, che se va avanti così letteralmente sta scoppiando. E anche la giornata di oggi una testimonianza molto importante del lavoro che la FIR sta facendo all'interno delle scuole e come tutti possono vedere i risultati sono estremamente incoraggianti e molto belli e molto positivi. Angelo, però comunque senza gli arbitri il gioco non... Gli arbitri sono naturalmente una categoria molto importante, anche su questo il comitato sta lavorando molto per aumentare numeri, visto che continuiamo a crescere e le squadre continuano a crescere di anno in anno e naturalmente attraverso i corsi che vengono fatti aumentare sempre di più anche la loro competenza e la loro qualità. e con piacere presenterei alcuni degli arbitri che oggi sono stati i protagonisti qui a Calvisano di questo bel evento. Io sono? Io sono Giorgio Barillari della sezione di Milano. E vieni da? E vengo da Paullo. Paullo. Io sono Beatrice Smussi della sezione di Brescia e vengo da Brescia. Smussi è un cognome che mi dice qualcosa? Mio papà mi ha passato diciamo la staffetta. Fila d'arte allora. Io sono Amedeo Lamattina della sezione di Milano e vengo da Seregno. Io sono Rodrigo Zengo e sono della sezione di Milano e vengo dal Camerun. Dal Camerun? Benissimo. Allora... Complimenti ragazzi e ragazze, siete stati molto bravi e vi ringrazio a nome di tutto lo staff e del consiglio di comitato. Claudio, noi ci conosciamo, presentami il tuo gruppo. Allora, vi presento queste fantastiche ragazze. Martina, Angelica, Laura, Alice, Sara, Erika, Marta, Carlotta, Serena, Alessia, Maria e Giulia. Tu mi hai le tue responsabilità, vieni qua. Eh, bravo. Ok. Anche se non ho giocato, vedere le mie compagne di squadra giocare è stato bellissimo. È stata una mattinata bella. Quindi, consigliamo questo rugby anche alle donne? Consigliamo il rugby anche alle donne, non è vero che è uno sport maschile. E niente, adesso voglio un vostro saluto generico, dai un saluto. Dio, sui cani! Quest'anno io per la prima volta sono nell'organizzazione, quindi mi sono occupato un pochino di gestire i campi. Esperienza mega positiva, ho visto veramente un livello molto interessante. Dalla mia provincia, particolarmente Lecco, sono arrivate tre squadre, quindi un successo per quanto mi riguarda. Ho visto i ragazzi estremamente divertiti e secondo me è la cosa più importante. Adesso stanno facendo le finali la categoria maschile, vediamo come va. Non ho ancora seguito il risultato, però penso sia positivo. Ripeto, primo anno nell'organizzazione, tutto curato nei minimi dettagli, veramente ben riuscita. Luca Galimberti, ci siamo ogni volta in questi eventi. C'è sviluppo? Quasi tutte le province erano oggi rappresentate e la cosa un po' interessante è che ogni anno il livello si sta alzando. Quindi per noi è fondamentale questo lavoro nella scuola perché poi porta a dei ragazzi sul campo e per noi è il primo passo. Prima la quantità e poi speriamo che arrivi anche la qualità. Siamo della scuola di Geralario, in alto lago di Como e siamo reduci da due rappresentative nazionali, nel senso che per due anni abbiamo vinto le regionali. Questa è andata meno bene del solito, però siamo contenti dell'esperienza, nella nostra scuola il rugby è molto diffuso. Ringraziamo anche la Delebio Rugby di Sondrio che ogni volta ci dà una mano nel preparare i ragazzi. Comunque il rugby a scuola insegna non solo a giocare ma anche valori di rispetto molto positivi, è quello a cui noi tendiamo. Riccardo, allora come è andata questa mattinata con la tua squadra di Lecco? È iniziata abbastanza male ma direi che siamo comunque riusciti a disputare un attimo torneo, nonostante non siamo arrivati tra i primi, però comunque siamo stati abbastanza bravi. Sì, è un torneo molto divertente che può istruire molto sul gioco del rugby e sul piano anche della legalità, per esempio rispettare gli avversari, gli arbitri. Bravo, questo è il discorso molto sociale del rugby. Te vedo che hai avuto anche un bel souvenir del rugby. Sì, ho preso una cragnata con il mio compagno di squadra. Vedi, capita, capita. Un saluto di tutti voi adesso, dai. Siamo iniziati bene con la prima partita contro il Varese, poi è andata un po' male contro Mantua. C'erano molti ragazzi che giocavano nel Viadana, erano molto uniti e molto organizzati e lì abbiamo perso proprio, hanno giocato meglio loro. Siamo il San Giovanni Bosco di Viadana e Mantua insieme e qua Calvisano è sempre una bella emozione a livello giovanile. Se riusciamo in una battuta a riassumere questa mattinata di Rugby School, come la chiamo io, Rugby Scolastico. È una battuta giornata eccellente, direi grandi numeri, grandi risultati, buonissimo spettacolo e con soddisfazione da parte di tutti. I ragazzi in primis perché lavorare in un ambiente come questo, in una situazione ideale per chi gioca a Rugby in un centro che è l'optimum italiano, io credo, io adesso ci sarà sicuramente treviso e tutto quanto, però credo che in Lombardia non ci possa aspettare di meglio per ospitare la finale dei campionati studenteschi come abbiamo fatto oggi. Abbiamo vinto! Grazie a tutti!